Io ti ringrazio, ti ho conosciuto sempre su Facebook tramite un gruppo in cui sono iscritta e quindi mi ha sempre colpito e ti ascolto volentieri perché sei di una dolcezza infinita, tu arrivi dritta al cuore, perciò quando ho visto che stavi per fare un corso ho detto c'è qualcosa che ti richiama. In effetti devo dire che mi hai, non so perché ho sempre avuto paura di approfondire il mio albero genealogico anche perché la mia famiglia è abbastanza numerosa sia come fratelli che come zii eccetera eccetera perché comunque in famiglia c'è un qualcosa che spaventa e quindi oggi mi hai fatto vedere che c'è la possibilità in realtà di approfondire per trasformare quello che fa paura. Quindi grazie.